Cosa succede all'8 settembre 1943? Che di fronte alla mancanza di ordini, alla mancata preparazione del cambiamento di alleanze, questi uomini, e stiamo parlando di un paio di milioni di uomini, si trovano in armi ma senza ordini al momento del passaggio e dell'armistizio. Di questi circa un milione viene catturata e disarmata dalle forze armate tedesche. Approssimativamente 700 mila vengono tradotti dal luogo dove erano, in patria, nei Balcani, nelle zone di occupazione della Francia, vengono tradotti verso la Germania, verso l'Europa nazificata e occupata ancora dalla Germania, come prigionieri. Di questi 700 mila italiani, soldati italiani, ufficiali italiani, resi prigionieri da quello che sino a poche settimane prima era l'alleato, che cosa fa la Germania nazista? Cosa vuole farne? Sicuramente vuole toglierli dalla lotta militare, ma nel frattempo, al 17 settembre, viene costituita la Repubblica Sociale Italiana. A quel punto un attore italiano, la RSI, rivorrebbe questi internati militari. Ma questi uomini erano necessari allo sforzo bellico tedesco. Questi uomini erano necessari come lavoratori in Germania per lo sforzo bellico tedesco. Hitler si curava poco delle richieste di Mussolini di riavere questi italiani. Cosa succede quindi? Che questi italiani, prigionieri di tedeschi, dei quali erano stati fino a poco tempo prima alleati, rimangono nei campi di prigionia nei lager tedeschi, denominati internati militari italiani. Hitler non poteva avere centinaia di migliaia di uomini prigionieri del suo alleato Mussolini. Quindi la invenzione della definizione di internati militari italiani. Tale definizione, tra l'altro, toglieva gli IMI, internati militari italiani, dalla protezione della Croce Rossa internazionale. Quindi la Germania italiana avrebbe potuto fare di questi 700.000 IMI internati quello che voleva. A questi internati militari però dovette chiedere se volevano tornare con Mussolini. E questo è il punto fondamentale che cambia una storia di prigionia in una storia anche di resistenza, o come è stata detta, di resistenza senza armi. Perché di questi 700.000 solo una minoranza accettò di andare con Mussolini e di tornare in patria. Si va di bene che avrebbero anche potuto tornare, come alcuni fecero, dicendo di andare con Mussolini, ma poi in realtà tornando in casa, salutando le famiglie e salendo sulle montagne alla macchia. No, la stragrande maggioranza degli internati militari disse no a Mussolini, disse no a Hitler, disse no alla continuazione della guerra. Fu un enorme plebiscito, una resistenza senza armi. L'Italia però si avvalse di questo plebiscito enorme, che destituì anche Mussolini di legittimità, e non a caso agli IMI, il Comitato di Liberazione Nazionale Alt'Italia, negli ultimi mesi della guerra lanciò un messaggio di gratitudine. La storia complessa degli IMI, militari, poi prigionieri, poi lavoratori, volontari obbligatori, la resistenza senza armi, di prigionieri che non volevano aderire alla Repubblica Sociale Italiana, questa storia complessa, è stata a lungo tasciuta dall'Italia repubblicana e moderata dei primi decenni. Da parte istituzionale il ricordo fu tacitato, ma anche dalla parte opposta. Il Partito Comunista suggerì ad un suo componente di rilievo, come il giovane Alessandro Natta, di non pubblicare il suo volume di memoria sull'esperienza di internato militare nel 1954, perché non era una cosa interessante. Invece questo interesse c'era e fu riscoperto molto più avanti, quando fu possibile capire che la resistenza senza armi degli internati militari faceva parte di una pluralità di resistenze. Non si dovrebbe più parlare ormai di resistenza al singolare, ma di resistenze plurali che insieme compongono la guerra di liberazione nazionale.